Io ti dico che amo la skin e amo la canzone Ma a me piacciono troppo ste robe Riccardo, come si chiama Riccardo? Milos No, ma di cosa stiamo parlando? Riccardo chi? Questo qui che ha fatto questa... Non lo so Questa è verissima Attenzione Attenzione Oh no Questa è quando Fornais, quando Apex sembrava aver preso la meglio Ma poi Sembrava scarse invece poi Questo è ancora il vecchio Fornais Dimmi come va a finire Secondo te Che... Non te l'aspettavi eh No Oh no questa Wow Wow Sei un genio Oh mio Dio Wow Attenzione No, è una trollata È una trollata Dici Tuntur Ma che sfiga Tipo immaginati di essere ai mondiali Devi vincere 3 milioni di euro E succede questo Mamma Beh di sicuro non fai il pistola Eh no ma non ha fatto il pistola Ha giocato bene Waste my V-Buck skin Ma E' strano che una tipa faccia quegli Audi Attenzione Attenzione Oh questo Oh si Fornais che tiene lontano bene tutti Attenzione la Renegade ha già vinto Eh si Surprise Madafaga vecchio Della Gambino Bello Questo è Fornaic è un gioco bello Ma spara pure? Eh si è la nuova arma L'arma che spara dal palo Ma quanto bella è questa cosa Se lo provo io muoio Se lo provo io muoio Ah la Glowskin Io vendo la Glowskin Link in descrizione Questo sei tu No gli ero tu il trampolino Eh lo so Quello sei proprio tu quando Start bus Che cazzo E' bellissimo questo Ma quanti artistici sono su TikTok Vecchio Questo sei tu Ecco questo è un'unica parte Quando non vedi la figa da tanto tempo Con il mi metto il rossetto Sì Esattamente Come si chiama questa skin? Wonder Wonder E anche questa la vendo Uno degli svantaggi di giocare da controller A quanti metri l'ha lanciato per la rabbia? No Joanie Attenzione Dopo mesi Sai che musica è questa? Che soundtrack è? No Quello degli Avengers Oh dai Quello degli Avengers Tuuuu Tu 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 E' troppo Attenzione Cosa succederà? Lo sai già Tu 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 Io amo ste robe Io le amo Sì però potrebbero non registrarli da telefono Che cavolo Con un registra schermo Oh no Oh no Eh questo sono io Talmente forte da Non riuscire a ucciderlo Ti ricordi Questo nella season 3 E' vero il trailer Eh si No non è nel trailer Guarda la sua faccia And in that moment He knew He fucked up I'm black I'm red I'm a banana Ok I'm gay Do you love me? No Johnny No No Queste le amo So già cosa succede Queste le amo Skeleton Ma vecchio Ma ti rendi conto Cioè Come fai Cioè Oh vedi che bello Hai registrati così Questo non so se l'hai capito E' una presa per il culo A Tempo run Oh tempo run Del 2010 Girls Io E' una presa per la pistola Tutte scappano No Che ti guardano Poi scappano via Comunque si Non capisco Che cavolo Questo Ha visto il mac Esce Giusto Un comportamento corretto Lo so cosa sta per succedere Ma sono chiare queste Mamma mia Ma non so che balletto sia Questo è fighissimo Questo è fighissimo Guarda Ma va Ne ho già visto Ah Salva da lui E' Mongrel No non è Mongrel Però Tu lo sai fare Immagino A memoria Cosa cosa Non ho capito Ci deve davvero questo Nella testa dei problemi Chiaro Questo è Jack Sparrow Quando devi andare a pinnacoli Dietro c'è quello con la cam Hai visto C'è quello che filma da dietro Ma cos'ha sui piedi E' il ghiaccio Vedi che c'è sempre il cameraman dietro Dimmi cosa sta per succedere Super screen mondiale Universale Bellissima Hanno rotto la base Vedi che lei sta Beh in realtà può salvarsi Secondo me Ehi tu Desiderai per caso Tenere la rarissima Skin glow Wonder o Honor Purtroppo l'Iconic Non si può più rischiattare Devi sapere che Vendo queste skin E a prezzi stracciati Rispetto a certi siti Che vendono La glow addirittura 49 dollari E non solo Io ti offro anche Grandi sconti Per te e i tuoi amici Inoltre i primi 50 Le avranno ad un prezzo Ben più scontato Degli altri Sarebbe un peccato Non aggiungere questa skin Al tuo fantastico armadietto Affrettati Visita il link In descrizione Sì Che cavolo Ah aspetti Bellissimo Io le amo queste cose Anche a me piace tantissimo Ma come si chiama Ma come si chiama Questa è bellissimo Guarda Lui spara Spara Prendela Impulso per lanciarla Per colpirsi Lancia da fuori dalla finestra Un genio Però ho fatto la kill No vabbè No vabbè Ti immagini alla World Cup Ti succede questo Like if you cry every time Questa si chiama La danza del criceto Questa La danza del del historically che sfiga spara sbaglia ed è uscita la partita non si fanno ma fermo questo è un fan di attenzione una roba buona dell'iphone almeno questo ma anche con me no i siri fammi diventare forte vecchio questo è fantastico stai capendo cosa sta succedendo al giapponese no vecchio c'era uno che gli sparava con la minigun e tutti gli altri che lanciano addosso le cose ma va 25 mila euro di v bucks che cosa acqua un po di figa perché so che a te piace però te piace solo col volto coperto effettivamente vabbè fai conto che gli metti una mano davanti così esatto questo sparato un tipo in aria hey siri il nebo è in botte uuuu mamma vecchio questo sono io ah sono vero mamma ma chi ce l'ha la skin dello gnomo i'm the bad guy ok yes johnny come finirà questa questa tastiera il distruttore di tastiere raga a me piace tantissimo questo la discoteca attenzione la scoteca o questo ma ma perché solo i giapponesi e gli americani se ne vengono fuori con queste robe cioè tipo corsa contro il tempo eh si guarda vecchio oh guarda che lui se ne ha fatto tutto ma tu ti immagini quante volte ha dovuto fare le prove e ricostruire questa pista poverino guardalo 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 c'era lo zombie che l'ha sbattuto alla fine e così la macchina non ha avuto la rincorsa necessaria non ci credo oh dio sto qui l'ho visto questo è proprio quello che succede normalmente con i carrelli esatto cosa succederà mai per fortuna che consiglio di forn è come combattere contro il brutto io lo amo questo chi è il genio che ha fatto questo deblock lo stimo tutta la vita ma va ha fatto una cascata finta con la stanza dentro ma va perché io non lo sapevo peccato che non ci siano più cavoli e là attenzione attenzione atti carmelita johnny's the battle un genio attenzione momento di tensione momento di tensione tranquillizzati bro attenzione attenzione e ora ti porterò fuori hai le ultime parole cosa che vuol dire uccidere boh non per forza è finito bello bello saluta ciao ok a posto fatto tutto ok a posto fatto